Noi attendiamo di vedere quale testo ci vogliono sottoporre, perché sul testo della Cirinna in Commissione Giustizia ci siamo già espressi. Se intendono modificarlo, ci comunicano per tempo le modifiche che vogliono fare, esaminate quelle e esprimeremo la nostra posizione. Abbiamo già detto che non accetteremo uno stravolgimento del testo.